buongiorno a tutti sono alex magistrato sales and marketing consultant di arras group oggi non vi mostrerò i nostri cantieri ma vi porterò dietro le quinte al momento sto lavorando al nuovo sito arras group che sarà online il 30 di settembre iscrivetevi al nostro canale di youtube e seguiteci sui social per rimanere sempre aggiornati sui nostri progetti costruiamo insieme la casa dei tuoi sogni